Fili metallici nelle merendine. La San Montana chiede ai pubblici esercizi di non procedere alla vendita dei prodotti di prima colazione surgelati dei marchi Mongelo, Professional e Tremarie. L'azienda di Empoli della famiglia Bagnoli ha pubblicato un avviso sui quotidiani chiedendo ai propri clienti di bloccare la vendita perché i prodotti potrebbero contenere un corpo estraneo ed in particolare dei minuti filamenti metallici. Vi chiediamo, prosegue l'avviso, di procedere alla restituzione degli stessi agli agenti distributori territoriali. San Montana SPA provvederà poi alla sostituzione e al rimborso dei costi sostenuti. San Montana, si legge ancora nella nota, pone al primo posto la sicurezza alimentare e la salubrità dei propri prodotti quale prerequisito essenziale e imprescindibile. Per questo motivo, nel rispetto della normativa vigente, adotta tutti gli accorgimenti, le tecnologie, le salvaguardie protettive, le buone pratiche igieniche produttive e le attività di controllo adeguate in relazione ai prodotti e alle categorie di consumatori cui gli alimenti sono destinati. Nell'ambito dei controlli specifici e propri macchinari produttivi è stata riscontrata la non conformità descritta e decisa l'azione di richiamo.